Pubblico questo video in leggero ritardo rispetto al giorno in cui sono andata a vedere il film. La sera stessa ho pubblicato su Cultura e Cultura una recensione scritta che potete leggere cliccando sul link nel box informativo. Vi metto nel box informativo anche il link di affiliazione di un libro che vi consiglio di leggere su Malefica e vi metto sempre nel box informativo i link dei miei canali social, Instagram, Facebook e anche il link di Cultura e Cultura. Ora questa non è una recensione nel senso stretto del termine la recensione come vi ho detto potete leggerla su Cultura e Cultura è piuttosto un'analisi del personaggio di Malefica e cercherò di spiegarvi come secondo me si è evoluto rispetto al prequel ma andremo anche ad esaminare il personaggio di Aurora e il personaggio della regina Ingrid. Maleficent 2, la signora del male è un film al femminile è un film che parla alle donne ma non solo alle donne anche a quel femminile che è custodito in ciascuno di noi e per femminile intendo quelle qualità che abbiamo rimosso confinato nel mondo onirico come per esempio tra virgolette la debolezza, la cedevolezza ma anche la stessa creatività. Basti pensare che siamo nell'epoca della scienza, nell'epoca della razionalità dove trionfano le prove scientifiche dove abbiamo bisogno sempre di testare con mano però allo stesso tempo abbiamo perso la spiritualità abbiamo perso il contatto anche con le emozioni più viscerali che abbiamo considerato negative negative perché non sono controllabili dalla ragione quindi la donna in quanto tale e in quanto essenza del femminile è stata in qualche modo messa a tacere nei secoli La bella addormentata nel bosco tutte le versioni della bella addormentata nel bosco hanno voluto risvegliare la coscienza femminile però come tutte le fiabbe al femminile lo si è fatto tenendo conto dei tempi e quindi adesso possiamo dire che la nostra società è pronta per l'evoluzione La donna è pronta per trasformarsi ma trasformare che cosa? Malefica chi è? Malefica non è altro che la rabbia femminile Ora che cosa è successo a Malefica? Malefica sappiamo che nel primo film era stata delusa dal principe Stefano che l'aveva appunto ingannata e aveva scagliato un maleficio sulla figlia di Stefano, Aurora Aurora è la bella addormentata nel bosco nel frattempo prima che il maleficio arrivi a compimento Malefica si affeziona ad Aurora e comincia a vigilarla quando il maleficio arriva a compimento Malefica ormai non può più nulla perché sarà soltanto il bacio di una, stiamo parlando appunto del primo film il bacio di una, dell'amato che potrà risvegliarla e non vi dico altro mi fermo qui per non rovinarvi il gusto della sorpresa soprattutto per chi non ha visto il primo film nel secondo film nel secondo film vediamo che Malefica e Aurora vivono serene Aurora è la regina della bruchiera e Malefica custodisce la bruchiera chi sono questi personaggi della bruchiera? potremmo dire che sono il nostro lato infantile sono il bambino interiore che cerchiamo di addomesticare Malefica è la rabbia la rabbia che le donne hanno per tanto tempo tenuto a freno perché l'altro volto della rabbia se la rabbia non diventa ira l'altro volto della rabbia ci può portare ad evolverci perché la rabbia ci spinge ad agire abbiamo bisogno della rabbia perché è proprio la rabbia che ci dà la motivazione per creare se io non ho la spinta propulsiva all'azione non posso creare Aurora non è altro che la bambina che sta diventando donna e che ha bisogno della rabbia per poter scegliere autonomamente Aurora è interpretata nel film da Hel Fanning e poi c'è un altro personaggio un personaggio molto interessante secondo me interpretato magistralmente da Michelle Pfeiffer che è la regina Ingrid la regina Ingrid non è altro che la donna che ha rinunciato completamente a se stessa e che quindi scaglia sulle future generazioni tutto il proprio tormento le future generazioni di donne ecco perché dice a Malefica adesso nel momento in cui diciamo Filippo chiede la mano ad Aurora dice a Malefica Ingrid adesso è mia Aurora non deve utilizzare più non può più fare affidamento su Malefica ma è di Ingrid però Aurora può ribellarsi a tutto questo quindi una rabbia distruttiva che è quella di Ingrid che diventa ira invece la rabbia di Malefica è una rabbia che porta bellezza è una rabbia che custodisce il bello che abbiamo dentro di noi per farci evolvere quindi è un film che parla dell'evoluzione femminile Joachim Ronning con la Disney creano un film bellissimo anche grazie ad una sceneggiatura robusta non vi dico altro per non rovinarvi il gusto della sorpresa intanto posso dirvi che il principe Filippo si è molto evoluto quindi vediamo un maschile leggermente diverso più consapevole ma ancora poco maturo rispetto a quello che era il patriarcato io sono molto affascinata dalle fiabbe e su culture e culture ma anche sul canale presto vi proporò proprio delle recensioni di libri per bambini e perché no magari riaffronteremo questo discorso e questo ragionamento in una chiave nuova vi ringrazio e alla prossima